Turgenef, il medico del distretto. Un giorno d'autunno, nel tornare da un campo lontano, presi freddo e mi ammalai. Per buona sorte, la febbre mi colse nel capoluogo del distretto, all'albergo. Mandai per il dottore. Dopo mezz'ora comparve il medico del distretto, un uomo di piccola statura, mingerlino e dai capelli neri. Egli mi prescrisse il solito sudorifero, ordinò di applicare un senapismo. Si infelò assai destramente nel risvolto della manica a una carta da cinque rubli. Nel farché tuttavia diede un colpo secco di tosse e gettò un'occhiata da una parte. E già, stava proprio per andarsene a casa. Ma poi, chissà come, attaccò discorso e rimase. La febbre mi tormentava. Prevedevo una notte insonne e fu lieto di far quattro chiacchiere con un brauomo. Ci servirono il tè. Il mio dottore si mise a discorrere. Era tutt'altro che sciocco. Si esprimeva in maniera vivace e abbastanza divertente. Al mondo succedono strane cose. A volte vivi anche a lungo insieme con un uomo e ti trovi con lui in amichevoli rapporti. Eppure nemmeno una volta parli con lui a cuore aperto, dal fondo dell'anima. Con un altro, invece, hai appena avuto il tempo di far conoscenza. Ed ecco che tu a lui e lui a te vi siete spifferato, come in una confessione, ogni cosa più intima. Non so come mi fossi meritato la confidenza del mio nuovo amico. Fatto si è che di punto in bianco, egli fece presa, come ci dice, e mi raccontò un caso abbastanza singolare. Ed eccomi ora a recare il suo racconto a conoscenza del benevolo lettore. Cercherò di esprimermi con le parole del medico. Non conoscete, cominciò con voce debole e tremante, tale è l'effetto del tabacco di Berioscova puro. Non conoscete il giudice di qui, Milov Pavel Lukic? Non lo conoscete? Beh, fa lo stesso. E gli tossì e si strofinò gli occhi. Ecco, vedete, il fatto avvenne, come dirvi, senza bugia. Di quaresima, proprio al tempo del disgelo. Sono a casa sua, del nostro giudice, e giochiamo a preference. Il nostro giudice è un uomo da bene, è un appassionato giocatore di preference. D'un tratto, il mio medico usava spesso le parole d'un tratto, vengono a dirmi. Un uomo chiede di voi. Io dico, che gli occorre? Ha portato, mi dicono, un biglietto. Sarà di un malato. Da qua il biglietto, dico io. Sì, è di un malato. E va bene, voi capite, è il nostro pane. Ma ecco di che si tratta. È un appossidente che mi scrive, una vedova. La figlia memore, dice. Venite, proprio per l'amor del Signore Dio nostro. E già sono stati mandati i cavalli, dice. Beh, questo non è ancora nulla. Ma lei abita a venti verste dalla città, è fuori è notte e le strade sono tali che... Uff. E poi è bisognosa, e più di due rubli d'argento non c'è da aspettarsene. E anche questo è dubbio. Toccherà forse tra il partito da un pezzo di tela o da qualche altra quisquiglia. Ma il dovere, mi capite, prima di tutto. Un essere umano sta morendo. Passo d'un tratto le carte all'immancabile compagno di gioco, Cagliopin, e mi avvio a casa. Guardo, davanti all'entrata c'è una carrozzuccia. Cavalli da contadini, panciuti, stra-panciuti. Il loro pelo è un vero feltro. E il cocchiere per rispetto sta a capo scoperto. Beh, penso, si vede, fratello, che i tuoi padroni non mangiano in piatti d'oro. Voi riderete, ma io vi dirò che noi altri, povera gente, teniamo conto di tutto. Se il cocchiere se ne sta come un principe, e non fa tanto di cappello, e per giunta si la ride sotto i baffi e agita leggermente la frusta, puoi puntare sicuro su die carte da dieci rubli. Ma qui vedo che la cosa si annuncia ben diversa. Tuttavia, penso, non c'è nulla da fare. Il dovere, innanzitutto. Mi piglio i rimedi più necessari, e mi avvio. Lo crederete? A stento ci arrivai. Una strada d'inferno. Ruscelli, neve, fango, buche. E poi, d'un tratto, una diga che si è rotta. Un guaio. Non di meno arrivo. Una piccola casetta coperta di paglia. Luce alle finestre. Dunque, aspettano. Mi viene incontro una vecchietta. Così per bene, con una cuffietta. Salvatela, mi dice. Muore. Io dico, non vi inquietate. Dov'è l'ammalata? Ecco, favorite qua. Guardo. Una cameretta linda. Una lampada in un canto. Sul letto, una ragazza di circa vent'anni. Svenuta. Brucia tutta e respira faticosamente. Un febbrone. Di vicino altre due fanciulle. Le sorelle spaventate in lacrime. Ecco, mi dicono. Ieri stava perfettamente bene e mangiava con appetito. Stamane si regnava di mal di capo e verso sera, ad un tratto, ecco, in che stato. Io dico di nuovo, non vi inquietate. Sono le parole d'obbligo, lo sapete. E mi posi all'opera. Le cavai sangue. Ordinai di metterle un senapismo. Prescrisse una mistura. Intanto la guardo. La guardo, sapete? Ebbene, com'è vero Dio. Un viso così non l'avevo mai veduto. Una bellezza in una parola. Mi fa una gran pena. Finamenti così graziosi. Gli occhi. Ecco, grazie a Dio sei calmata. Traspira, sembra rinvenuta. Ha guardato attorno. Ha sorriso. Si è passata una mano sul volto. Le sorelle si curvano su di lei. Domandano. Che hai? Nulla, dice. E si volta dall'altra parte. Guardo. Si è assopita. Su, dico. Ora bisogna lasciar quieta l'ammalata. E tutti in punta di piedi uscimmo fuori. Rimase la sola cameriera. Per ogni caso. In salotto c'era già sulla tavola il samovar. E lì accanto anche il room. Nel nostro mestiere non si può farne senza. Mi offrirono il tè. Mi pregarono di rimanere lì a pernottare. La consentì. Dove andare a quell'ora? La vecchietta non fa che sospirare. Ma perché? Le dico. Vivrà, tranquillatevi. Ed è meglio che prendiate un po' di riposo anche voi. È luna passata. Ma ordinerete di svegliarmi? Se succederà qualcosa? Ordinerò. Ordinerò. La vecchina si ritirò. E anche le ragazze andarono nella loro camera. A me fu preparato un letto nel salotto. Eccomi coricato. Ma non posso addormentarmi. Che cosa strana. Eppure mi ero strapazzato quanto basta, mi pareva. La mia malata non mi usciva di mente. Infine non potei resistere. M'alzai di un tratto. Penso. Andrò a vedere cosa fa la mia paziente. E la sua camera è proprio attigua al salotto. Ebbene. Mi alzai. Apri pian piano la porta. E il cuore a picchiarmi in petto. Guardo. La domestica dorme. Ha spalancato la bocca e russa perfino la briccona. E l'ammalata sta a giacere con la faccia verso di me. Con le brazze aperte. Poverina. Mi avvicinai. E lei di un tratto apri gli occhi. E li fissa su di me. Chi è? Chi è? Mi confusi. Sono il dottore. Sono venuto a vedere come vi sentite. Siete il dottore? Sì. Il dottore. Il dottore. La vostra mamma ha mandato a cercarmi in città. Vi abbiamo cavato sangue, signorina. Ora favorite riposare. E tra un paio di giorni, se Dio vuole, vi rimetteremo in piedi. Ah, sì, sì, dottore. Non lasciatemi morire. Ve ne prego, ve ne prego. Ma che dite? Dio vi benedica. Ha nuovamente la febbre, penso tra me. Ne tasto il polso. Ha proprio la febbre. Mi guarda ed un tratto mi prende la mano. Vi dirò perché non voglio morire. Ve lo dirò, ve lo dirò. Adesso siamo soli. Ma voi di grazia. Non ditelo a nessuno. Ascoltate. Mi chinai. Ella mi accostò le labbra proprio all'orecchio. Mi sfiorò la guancia coi capelli. Devo confessarlo. A me stesso prese a girare la testa. E cominciò a sussurrare. Non capisco nulla. Ah, ma lei delira. Sussurrava. Sussurrava, ma così svelto e come se non si esprimesse in russo. Terminò. Ebbe un sussulto. Lasciò cadere la testa sul guanciale e mi minocciò col dito. Badate dunque, dottore. A nessuno. In qualche modo la tranquillai. La diedi da bere. Svegliai la cameriera ed uscii. Qui il medico tornò a fiutare con accanimento del tabacco e per un attimo restò come intormentito. Eppure, continuò. Il giorno dopo, l'ammalata, contrariamente alla mia attesa, non si sentì sollevata. Io pensai, pensai. Ed un tratto mi risolsi a rimanere, benché altri pazienti mi aspettassero. E lo sapete, non sono cose da potersi trascurare. La clientela ci scapita. Ma, in primo luogo, l'ammalata si trovava veramente in uno stato disperato. E poi, bisogna dire la verità, io stesso mi sentivo fortemente attratto verso di lei. Inoltre, tutta la famiglia mi piaceva. Erano gente non ricca, sia pure, ma istruita, si può dire come ce n'è di rado. Il padre loro, infatti, era un uomo colto, uno scrittore. Era morto in povertà, certo, ma era riuscito a dare ai figli un'educazione eccellente. Aveva anche lasciato molti libri. O perché mi davo da fare assiduamente intorno all'ammalata. O per qualsiasi altra ragione. Fatto sta che in quella casa presero a volermi bene, come a un parente. Nel frattempo, lo stato della strada si era fatto orribile. Tutte le comunicazioni, per così dire, affatto interrotte. Perfino le medicine si stentava ad avere dalla città. L'ammalata non si rimetteva. Un giorno dietro l'altro, un giorno dietro l'altro. Ma ecco che... A questo punto il medico tacque un poco. Davvero, non so come esporvelo. Egli fiutò da capo tabacco, fece un raschio e ingogliò un sorso di tè. Vi dirò senza reticenze. La mia malata, come si direbbe? Sera, che so io? Innamorata di me? Oppure no? Non che si fosse innamorata, ma... Del resto. Davvero. Come se fosse accaduto. Il medico abbassò gli occhi a Rossi. No, continuò egli con vivacità. Che amore. Non bisogna poi credersi più di quel che si è. Lei era una ragazza educata, intelligente, letterata. E io, perfino quel po' di latino, lo si può dire del tutto dimenticato. In quanto alla persona... Il medico si guardò con un sorriso. Non c'è parimenti da vantarsi, a quanto sembra. Ma sciocco. Il signore Dio neppure mi ha creato. Non dirò mai nero al bianco. Qualche cosa capisco anch'io. Compresi benissimo, per esempio, che Alexandra Andreevna, e la si chiamava Alexandra Andreevna, aveva concepito per me, non già, amore, ma una disposizione, per così dire, amichevole. Che so? Della stima! Sebbene la stessa, forse, a questo riguardo si ingannasse, giudicherete voi qual era la sua situazione. Del resto, soggiunse il medico, che aveva pronunciato tutto questo discorso a sbalzi, senza prender fiato e con palese imbarazzo. Mi sembra di aver divagato un po'. Quindi non avrete capito nulla. Ma ecco, permettete. Vi racconterò tutto per ordine. Egli finì di bere il suo bicchiere di tè e ripresi a parlare con voce più calma. Sì, è così. La mia malata stava sempre peggio, peggio e peggio. Voi non siete medico, egregio signore. Non potete capire quel che accade nell'animo di un di noi altri, specie nei primi tempi, quando comincia ad accorgersi che una data malattia la vince su di lui. Doveva finire la fiducia in se stessi? Ti si perde di coraggio, in maniera da non dire. E così ti sembra di aver dimenticato tutto quello che sapevi e che il malato non abbia fiducia in te e che gli altri comincino ad accorgersi che ti sei smarrito e a malincuore ti comunichino i sintomi che ti guardino di sotto in su, che bisbiglino tra loro. Brutto affare. Ma il rimedio contro questa malattia c'è, pensi. Non c'è che da trovarlo. Eccolo. Deve essere questo. Ne fai la prova. Non è quello. Non dai tempo alla medicina di fare il suo effetto. Ti appigli ora a una cosa, ora ad un'altra. Prendi in mano il ricettario. Qui, c'è, pensi, qui. Parola mia. Una volta l'apri a casaccio. Chissà, pensi, che destino. E intanto la persona se ne muore e un altro medico l'avrebbe forse salvata. È necessario un consulto, dici. Da solo non mi prendo la responsabilità. E che aria di sciocco in simili casi. Beh, non è nulla. Col tempo ti ci avvezzi. È morto, non per colpa tua. Hai agito in piena regola. Oppure ti capita una cosa anche più dolorosa. Vedi che si ha in te una fiducia cieca. E senti che non puoi far nulla. Ed ecco, proprio una fiducia così aveva concepito per me tutta la famiglia di Alexandra Andraievna. Avevano addirittura dimenticato di pensare che una loro figlia era in pericolo. Anch'io, da parte mia, assicuravo che le cose non andavano male. Ma dentro di me ero sgomento. Per colmo di sventura sopravvenne un maltempo tale che il cocchiere viaggiava intere giornate per andare a prendere una medicina. Io poi non uscivo dalla camera dell'inferma. Non potevo staccarmene. Raccontavo ogni sorta di aneddoti, da ridere. Giocavo a carte con lei. Passavo le notti a vegliarla. La vecchietta mi ringraziava con le lacrime agli occhi. E io pensavo tra me «Non la merito, la tua riconoscenza». Vi confesso francamente, ormai non c'è scopo di nasconderlo, che mi innamorai della mia malata. E anche Alexandra Andraievna mi si affezionò. Capitava che non volesse nessuno in camera sua all'infuori di me. Si metteva a discorrere l'eco. Mi domandava dove avevo studiato, come vivevo, chi erano i miei parenti, chi frequentavo. E io sentivo che non avrebbe dovuto parlare. Ma proibirglielo, proibirglielo risolutamente, sapete? Non potevo. A volte mi agguantavo la testa. Che cosa fai? Assassino! Oppure mi prendevo una mano e la teneva nella sua. Mi guardava, mi guardava a lungo, a lungo. Si voltava in là, sospirava e diceva come siete buono. Le sue mani erano ardenti, gli occhi grandi, languidi. Sì, mi diceva, siete buono. Siete una brava persona. Non siete come i nostri vicini. No, non siete così. Come mai finora non vi avevo conosciuto? Alexandra Andraievna, calmatevi, dicevo. Capisco, credetemi. Non so come ho potuto meritare, ma calmatevi, per amor di Dio, calmatevi. Tutto andrà bene. Tornerete in salute. E intanto, vi devo dire, aggiunse il medico, curvandosi in avanti e inarcando i sopraccigli, che esse e quei vicini praticavano poco, perché i piccoli possidenti non erano loro pari e di frequentare quelli ricchi gliele impediva l'orgoglio. Vi dico, era una famiglia straordinariamente istruita. Tanto che, sapete, ne ero lusingato. Lei le medicine le accettava solo dalle mie mani. Si sollevava, poveretta, col mio aiuto. Le mandava giù e mi gettava a uno sguardo. A me, il cuore, sembrava rotolasse in petto. E intanto, quella stava sempre peggio, sempre peggio. Morirà, pensavo. Sicuramente morirà. Mi crederete? Avrei voluto scendere anch'io nella tomba. E intanto, la madre e le sorelle mi osservavano, mi guardavano negli occhi. E la fiducia se ne va. Che c'è? Come sta? Nulla, nulla. Ma che nulla? La mente si ingarbuglia. Ecco, una notte sono di nuovo lì, solo, presso l'ammalata. C'è anche la domestica e russa a tutto spiano. Beh, prendersela con quella disgraziata ragazza neppure si può. Si era strapazzata anche lei. Alexandra Andreevna si era sentita assai poco bene tutta la sera. La febbre la prostrava. Si era agitata fino a mezzanotte. Finalmente sembrò assupirsi. Almeno non si muoveva, stava distesa. Il lumino ardeva in un angolo davanti all'immagine. stavo lì, sapete, a testa bassa e sonnecchiavo io pure. D'un tratto, come se qualcuno mi avesse urtato in un fianco, mi voltai. Signore mio Dio! Alexandra Andreevna mi fissa con gli occhi spalancati. Ha le labbra aperte, le guance le ardono. Che avete? Dottore, morirò, non è vero? per carità. No, dottore, no, vi prego. Non dite che vivrò. Non ditelo, se sapeste. Sentite, per amor di Dio, non nascondetemi il mio stato. E intanto respirava in fretta. e saprò di sicuro che devo morire. Allora vi dirò tutto, tutto. Alexandra Andreevna, per favore. Ascoltate, non ho dormito affatto. Vi sto guardando da molto tempo, per amor di Dio. Vi credo, siete un uomo buono, siete un uomo d'onore. Ve ne scongiuro, per quel che vedi più sacro al mondo. Ditemi la verità, se sapeste com'è importante per me questo. Dottore, per amor di Dio, ditemi. Sono in pericolo. Che cosa dirvi, Alexandra Andreevna? Compatitemi. Per amor di Dio, ve ne supplico. Non posso nascondervelo, Alexandra Andreevna. Sì, siete in pericolo. Ma Dio è misericordioso. Morirò, morirò. E parve che se ne allietasse. Il suo viso sarà fatto giulivo. Io mi sgomentai. Ma non tenete. non tenete. La morte non mi spaventa affatto. Ella ad un tratto si sollevò e si appoggiò sul gomito. Ora, sì, ora posso dirvi che vi sono grata con tutta l'anima, che siete un uomo buono, bravo, e che vi amo. Io la guardo come un pazzo. Mi sentivo angosciato, sapete. Mi sentite? Vi amo. Alexandra Andreevna, come posso averlo meritato? No, no, non mi intendete. Non mi intendi. Ed un tratto tese le braccia. Mi afferrò la testa e mi baciò. Per poco non gridai, credetemi. Mi cettai in ginocchio e nascosi la testa nei guanciali. Ella tace. Le dita sue tremano nei miei capelli. Sento che piange. Cominciai a consolarla, a rassicurarla. non so veramente che cosa le dicessi. Sveglierete la ragazza, dicevo. Alexandra Andreevna, vi ringrazio. Abbiate fede, calmatevi. Ma lascia, lascia andare, ripeteva ella. Che Dio le assista quanti sono. Si sveglieranno, verranno qui. Non fa nulla, tanto morirò. E anche tu, che temi? Di che hai paura? Alza la testa. O forse voi non mi amate. Forse mi sono ingannata. Sei così? Scusatemi. Alexandra Andreevna, che cosa dite? Io vi amo, Alexandra Andreevna. Ella mi fissò negli occhi, poi aprì le braccia. Allora, abbracciatemi. Vi tirò schietto. Non capisco come quella notte non si è impazzito. Sentivo che la mia malata si ammazzava. Vedevo che non era del tutto in sé. Capivo altresì che se ella non si fosse creduta vicino a morte non avrebbe pensato a me. Perché dite quel che volete. È penoso morire a 25 anni senza aver amato nessuno. Ecco quello che la tormentava. Ecco perché dalla disperazione si era aggrappata a me. Lo capite adesso? Ma non mi lasciava andare dalle sue braccia. abbiate pietà di me Aleksandra Andreevna e abbiatene di voi stessa dissi. A che scopo dice che potrei rimpiangere? Tanto devo morire. Ella lo ripeteva di continuo. Ecco se sapessi di rimanere tra i viventi e di dovermi ritrovare nel numero delle signorine per bene mi vergognerai proprio mi vergognerai. Ma così ma chi va detto che morirete? Eh no smettila non riuscirai ad ingannarmi. Tu non sai mentire guardati in viso. Voi vivrete Aleksandra Andreevna io vi guarirò. Chiederemo la benedizione alla vostra mamma ciuliremo indissolubilmente saremo felici. No no ho la vostra parola devo morire me l'hai promesso me l'hai detto? Era una cosa amara per me amara per tanti motivi e giudicate voi a volte ti capitano certe cosucce da nulla parrebbe e invece fa male. E saltò in capo di domandarmi come mi chiamavo cioè non di cognome ma di nome. Disgrazia vuole che io mi chiami Trifon sì signore Trifon Trifon Ivanovic nella casa tutti mi chiamavano dottore non c'è nulla da fare dico Trifon signorina e la soppiuse di occhi scosse il capo e morborò qualcosa in francese qualcosa di cattivo e poi si mise a ridere di un riso pure cattivo ecco a questo modo passai con lei quasi tutta la notte al mattino usci dalla camera come stordito vi rientrai che era già giorno dopo il tè mio dio mio dio non la si poteva riconoscere i morti hanno miglior aspetto vi giuro sull'onor mio che ora non capisco non capisco proprio come resistei a quella tortura per tre giorni e tre notti ancora gemette la mia malata e che notti che cosa non mi diceva l'ultima notte poi immaginatevi stavo accanto a lei e pregavo dio d'una cosa soltanto che se la prendesse al più presto e anche me con lei d'un tratto ecco di sua madre la vecchietta nella camera già alla vigilia avevo detto a lei alla mamma che c'era poca speranza che andava male e che il prete non avrebbe guastato la malata appena vide la madre disse ecco è bene che tu sia venuta guardaci un po' ci amiamo ti siamo scambiati la parola che cosa dice dottore che cosa dice mi feci pallido come un censo delira dico alla febbre e lei lascia lascia or ora proprio mi dicevi tutt'altra cosa e hai anche accettato l'anello da me perché fingi mia madre è buona perdonerà capirà e io muoio non ho ragione di mentire dammi la mano io balzai su e corsi via la vecchietta si intende indovinò ogni cosa ma non starò a tediarvi oltre e anche a me lo confesso riesce penoso rammentare tutto questo la mia malata aspirò il giorno dopo anzi ha concesso il regno dei cieli soggiunse il medico parlando in fretta e con un sospiro prima di morire pregò i suoi di uscire e di lasciarmi solo con lei perdonatemi disse forse sono colpevole verso di voi la malattia ma credetemi non ho amato nessuno più di voi non dimenticatemi conservate il mio anello il medico si voltò in là io gli presi la mano eh disse egli parliamo di qualche altra cosa non vorreste fare una partitina a preference ai pari nostri sapete non sta bene abbandonarsi a sentimenti così elevati noi altri abbiamo da pensare a una cosa sola che i bimbi non frignino e la moglie non strida perché dopo di allora io ho avuto tempo di passare come si dice a giuste nozze ho preso una figlia di mercanti 7000 di dote si chiama Akulina con Trifon sta a pennello una donna vi ho da dire cattiva ma per buona sorte , dorme tutto il giorno e allora la preference ci mettemmo a giocare di una copeca Trifon Ivanovic mi vinse due rubli e mezzo e se ne andò che era tardi contentissimo della sua vittoria fine fine